Siamo al teleme dell'incontro qui, Tretico Mariano, con Toronio Doria Spigno, Spigno San Giovanni di Spigno. Abbiamo il portiere Piacentino, allora un pareggio sicuramente importante dopo una prestazione sicuramente positiva? Sì, una prestazione sicuramente positiva, ma non siamo contenti perché il risultato che ci interessava era la vittoria. Purtroppo si è messa a mano perché nel primo tempo non abbiamo proprio giocato. Nel peggio è andata bene, dai. Però avevate dei problemi in informazione e quindi un pareggio che ci può anche stare, no? Sì, sì, del tutto il pareggio va pure bene, però possiamo fare meglio. Come hai visto questo Marano? Una bella squadra, molto composta, coordinata in difesa. È stata una partita? Una bella partita, molto corretta, gli avversari corretti. Una bella partita, con una bella giornata, meglio di così non potete. Lo Spigno che campionato vuole fare ancora? Ormai dove stiamo dobbiamo fare solo un campionato a livello di zona alta classifica. Non siamo tra le prime tre, però siamo in coda. Speriamo di andare sempre meglio e di puntare il più in alto possibile. Prossimo turno, lo ricordi? Prossimo turno giochiamo con Fondi. No, l'altra, con le due squadre, quella che non fa classifica. Ah, l'ha visto Fondi, allora, quindi è una partita che non conta, insomma. È una partita che non conta, ma sarà un buon allenamento per provare cose nuove e vedere come stiamo. Dovrebbero rientrare anche i giocatori che ci mancano. Anche una vittoria, pure se non fa classifica, porta a morale lo stesso, ecco. D'accordo, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.